Agosto 2057. E dolce, cadrà la pioggia. In sala l'orologio parlante cinguettava. Tic tac, sono le sette, ora di alzarsi. Forza, sono le sette. Sembrava temere che nessuno gli desse ascolto. La casa mattutina era deserta, l'orologio seguitava ticchettare, reiterando il suo verso, destinato al vuoto. Sette e nove minuti. È l'ora della colazione. Sette e nove minuti. In cucina il fornelletto della colazione sospirò con un sibilo e fece uscire dall'interno caldo quattro fette di pane tostate alla perfezione, otto uova all'occhio di bue, sedici striscioline di bacon e due bicchieri di latte freddo. Oggi è il 4 agosto 2057, disse una seconda voce proveniente dal soffitto della cucina, nella città di Allendale in California. Ripetè la data per tre volte, in modo tale che restasse impressa. Oggi è il compleanno di Mr. Featherstone. Oggi è l'anniversario di matrimonio di Tilita. C'è da pagare l'assicurazione, nonché le bollette di acqua, luce, gas. Dalle pareti un clic-clac di relè e di nastri mnemonici scansionati da un occhio elettronico. Otto e un minuto, tic-tac, forza, a scuola, forza, al lavoro, su, sbrigatevi, sono le otto e un minuto. Ma non si sentivano né sbattere le porte, né il morbido strascichio dei tacchi di gomma sulla moquette. Fuori pioveva. La cassetta del meteo sulla porta d'ingresso cantava «Pioggia, pioggia, va via! Oggi galosce è impermeabile!» e l'acqua tamburellava, sulla casa vuota, con tanto di eco. Fuori, il garage batteo il rintocco ed alzò la saracinesca, mostrando l'auto in attesa. Dopo un bel po', riabbassò la saracinesca. Alle otto e mezzo le uova si erano raggrinzite e il pane era duro come una pietra. Un cuneo di alluminio grattò via gli avanzi verso il lavandino, dove furono inghiottiti in un vortice d'acqua calda e sospinti verso una gola metallica che li mandò giù per poi evacuarli nel mare remoto. I piatti sporchi furono calati nell'acqua bollente e ne riemersero scintillanti ed asciutti. «Nave 15!» cantava l'orologio. «Bisogna fare le pulizie!» Da una tana labirintica nel muro schizzarono fuori tanti topolini robot. Le stanze brulicavano di bestioline pulenti, tutte fatte di gomma e di metallo. Sbattevano contro le sedie, agitavano le spazzole baffute, lisciavano il pelo ai tappeti. Succhiavano delicatamente ogni granello di polvere nascosto. Poi, come misteriosi invasori, ritornarono nelle loro tane. Gli occhietti rosei e elettrici si spensero. La casa era pulita. «Ore dieci!» Dietro la pioggia spuntò il sole. La casa si ergeva solitaria in una città di macerie e di polvere. Era l'unica casa rimasta in piedi. Di notte, la città in rovina emanava un bagliore radioattivo, che poteva essere visto a chilometri e chilometri di distanza. «Dieci e quindici!» Partì il sistema di irrigazione del giardino. Mulinelli d'acqua come fontane d'oro, che riempivano la dolce aria del mattino di tanti luccichi. L'acqua scrociava sui vetri delle finestre, scivolando poi sul lato occidentale e bruciato della casa, dove il fuoco aveva corroso l'intonaco bianco. L'intera facciata era nera, tranne in cinque punti. C'era la sagoma dipinta di un uomo, intento a falciare il prato, la fotografia di una donna a chi ne raccogliere fiori. Poi, un po' più in là, le immagini incenerite, in un unico colossale istante. C'era un bambino, con le mani alzate, e sopra di lui l'immagine della palla lanciata, mentre di fronte c'era una bambina che si allungava per prendere la palla, che non sarebbe mai precipitata. Le cinque chiazze di intonaco, l'uomo, la donna, i bambini e la palla erano rimaste. Il resto era ridotto a un sottile strato di carbone. La gentile pioggerellina dell'irrigatore inondava il giardino di cascate di luce. Fino a quel giorno la casa se n'era stata in pace. Con estrema prudenza aveva continuato a domandare «Chi è? Qual è il codice d'accesso?» e non ricevendo risposta dalle volpi solitarie o dai gatti lamentosi, aveva richiuso le finestre, tirato giù le tapparelle con un'ansia di sicurezza da vecchia zitella, che rasentava un'istintiva paranoia. Ad ogni minimo suono la casa fremeva. Se un passero sfiorava la finestra, la tapparella scattava, l'uccello spaventato volava via. No, nemmeno un passerotto poteva toccare la casa. L'edificio era un altare, con diecimila inservienti, grandi, piccoli, servizievoli, attenti, uniti in coro. Ma gli dèi se ne erano andati, e il rituale liturgico era continuato senza senso e senza scopo. «Mezzogiorno!» Un cagnolino tremolante che guaiva davanti alla veranda. La porta d'ingresso riconobbe la voce dell'animale e si aprì. Il cane, un tempo grosso e pasciuto, ora ricoperto di piaghe e scheletrico, varcò la soglia e si aggirò per la casa lasciandosi dietro impronte fangose, il che fece azionare un turbine di topolini arrabbiati. Arrabbiati perché dovevano ripulire il fango, e arrabbiati per la seccatura. Perché non entrava nemmeno un frammento di foglia, senza che i pannelli alle pareti si aprissero, e tupi pulitori guizzassero fuori. La polvere smargiasse, un pelo, una carta, tutto veniva triturato da minuscoli dentini di acciaio, e riportato nella tana. Da lì, lungo le tubature che finivano in cantina, sospinto verso la sospirosa imboccatura di un inceneritore, che se ne stava seduto come un perfido ball, in un angolo buio. Il cane corse per le scale, guaendo istericamente ad ogni porta, e rendendosi conto al pari della casa, che vi regnava solo il silenzio. Annusò l'aria e grattò la porta della cucina. Dietro la porta il forno continuava a produrre pancake, che riempivano la casa di un intenso aroma di panetteria e di sciroppo d'acero. Il cane, con la schiuma alla bocca, steso sulla soglia, affinò l'olfatto, e gli si incendiò la vista. Cominciò a correre in circolo come un matto. Si mordeva la coda, si rigirava su se stesso, frenetico, fin quando morì. Restò stecchito in salotto per un'ora. — Ore quattordici! — cantò la voce. Le legioni di topolini, delicatamente sensibili alla putrefazione, si precipitarono fuori leggeri come foglie grigie trasportate da un vento elettrico. — Quattordici e un quarto! — il cane era sparito. Nella cantina, l'inceneritore si accese, in un improvviso bagliore. Un vortice di scintille salì su per il camino. Dalle pareti del patio spuntarono dei tavoli da bridge. Le carte da gioco svolazzarono, tre blocchetti segnapunti in una pioggia di segni. Su una panca di quercia comparvero dei martini accompagnati da sandwich farciti d'uovo. Partì la musica, ma i tavoli erano silenziosi e le carte intatte. Alle sedici i tavoli si ripiegarono, come grosse farfalle, per rientrare nelle pareti. 16 e 30. Si illuminarono le pareti della stanza dei bimbi. Si materializzarono gli animali. Giraffe gialle, leoni azzurri, antilopi rosa, pantere lilla, che saltellavano in una sostanza cristallina. Le pareti erano vetri, si affacciavano su un mondo di colore e di fantasia. Pellicole nascoste correvano su rocchetti ben oliati e i muri prendevano vita. Il pavimento della stanza somigliava a una distesa frusciante di grano. Sopra ci scorazzavano scarafaggi di alluminio e grilli di ferro. Nell'aria calda e ferma volteggiavano farfalle, di delicata stoffa rossa, tra l'odore intenso dei animali. Si sentiva il suono come di un grosso alveare giallo, dentro un mantice nero e il pigro borbottio di un leone che faceva le fusa. C'era lo scalpiccio degli ocapi e il mormorio della pioggia fresca nella giungla, quasi fossero altri zoccoli che calpestavano l'erba, inamidata dall'estate. Le pareti si dissolvevano in spazi remoti di erba riarsa, per chilometri e chilometri, in un cielo caldo ed infinito. Gli animali si allontanavano verso i rovi e le pozze d'acqua. Era l'ora dei bambini. Ore diciassette. La vasca si riempì di acqua calda e trasparente. Ore diciotto, diciannove, venti. Un gioco di prestigio coi piatti della cena e una specie di click nello studio. Dalla mensoletta di metallo di fronte al camino, dove ardeva un fuoco caldo, scattò un sigaro, con già qualche centimetro di soffice cenere grigia, lì fumante e inattesa. Ore ventuno. I letti azionarono i loro segreti circuiti termici, perché qui le notti erano fredde. Ventuno e cinque. Dal soffitto dello studio si sentì una voce. Mrs. MacLillan, che poesia gradirebbe ascoltare questa sera? La casa era silente. La voce allora disse, dato che non ha espresso alcuna preferenza, pescherò una poesia a caso. In sottofondo partì una musica soffusa. Sarah Tisdale, se non vado errato, la sua favorita. Dolce verrà la pioggia, e della terra l'odore, e le rondini stridenti in cerchio voleranno. Le rane negli stagni a notte canteranno. Il selvatico Bruno tremerà di candore. Di penne in fuoco i petti rossi ornati. Allegri canteranno lungo i bassi steccati. Nessuno più saprà di una guerra imminente. Né la sua fine lo rallegrerà. Né albero né uccello. Nessuno baderà alla stirpe degli uomini derelitta e morente. Anche la primavera, solgendo a nuova vita, appena noterà la nostra dipartita. Il fuoco ardeva nel cammino di pietra, e il sigaro precipitava in un tranquillo mucchietto di cenere sul piattino. Le poltrone vuote si guardavano in faccia, mentre la musica continuava a suonare. Alle ventidue. La casa iniziò a morire. Soffiava il vento. Il ramo di un albero si spezzò, sfondando la finestra della cucina. Una bottiglia di solvente per pulire finì in mille pezzi sui fornelli. La stanza vampò in un istante. «Al fuoco!» gridò una voce. Si accesero tutte le luci di casa. Dal soffitto venne pompata l'acqua, ma il solvente si era sparso sul linoleum, come una lingua che leccava e corrodeva, fin sotto la porta della cucina, mentre le voci non la smettevano più di gridare in coro «Al fuoco! Al fuoco! Al fuoco!» La casa tentò di mettersi in salvo. Le porte si serrarono, ma le finestre si infransero per il calore, e si insinuò al vento, a rinfocolare l'incendio. La casa perdeva terreno man mano che il fuoco, dieci miliardi di fiamme furenti, si aggirava con disinvoltura tra una stanza e l'altra, e risaliva le scale. I topolini pompieri squittivano frenetici precipitandosi fuori dalle pareti. Sparavano l'acqua, e correvano prenderne altra. Gli spruzzi del muro generavano una pioggia meccanica, ma era già troppo tardi. Da qualche parte una pompa si arrestò, esalando l'ultimo sospiro. La pioggia antincendio cessò. Le scorte d'acqua, che giorno dopo giorno avevano serenamente riempito vasche e lavato i piatti, si esaurirono. Il fuoco crepitava per le scale. Divorò i Picasso e Matisse nei vani superiori, come fossero ghiottonerie. Ne abbrustolì la carne oleosa, trasformò le tele, in tanti delicati truccioli neri e croccanti. Ora le fiamme si stendevano sul letto, si affacciavano alle finestre, cambiavano il colore alle tende. E poi arrivarono i rinforzi. Dalle botole in soffitta sbuccarono le facce cieche dei robot, a sbirciare di sotto con le fauci che erroravano verdi agenti chimici. Il fuoco indietreggiò, come farebbe anche un elefante, di fronte alla vista di un serpente morto. Ora c'erano ben venti serpenti, che sferzavano il pavimento uccidendo le fiamme, con un beleno chiaro e freddo, fatto di schiuma verde. Ma il fuoco, era furbo, aveva spedito delle fiamme fuori dalla casa, fino alle pompe della soffitta. Un'esplosione. Il cervello della soffitta che manovrava le pompe, conflagrò in tante schegge di bronzo che schizzarono contro le travi. Il fuoco si rentanò in tutti gli armadi, per tastare vestiti appesi lì dentro. La casa, ebbe un fremito, fin dentro le sue ossa di quercia, il nudo scheletro che si raggrinziva per il calore, i circuiti e i nervi, che venivano allo scoperto come se un chirurgo avesse rimosso lo strato di pelle, lasciando che vene sanguinolente e capillari tremassero nell'aria rovente. Aiuto! Aiuto! Al fuoco! Scappate! Il calore frantumava gli specchi come fragile ghiaccio invernale. Le voci urlavano al fuoco, al fuoco! Scappate! Scappate! Quasi fosse una tragica filastrocca infantile. Decine di voci acute, basse, sembravano bambini morenti nella solitudine estrema di una foresta. E le voci andavano affievolendosi, via via che circuiti scoppiettavano nei loro involucri, come fossero caldarroste. Una, due, tre, quattro, cinque voci che morivano. Nella stanza dei bambini la giungla andava a fuoco, i leoni azzurri irruggivano, le giraffe color porpora balzavano via, le pantere correvano in circolo e cambiavano colore e poi altri dieci milioni di animali che fuggivano davanti alle fiamme, sparendo verso un lontano fiume fumante. Morirono altre dieci voci. Nell'ultimo istante, sotto la valanga infuocata, si potevano udire nuovi cori di voci, che inconsapevoli continuavano ad annunciare l'ora, a trasmettere la musica, a tagliare l'erba con una falciatrice comandata a distanza. Aprire e richiudere nevroticamente un ombrello sulla porta di casa, che seguitava spalancarsi e poi richiudersi. E mille altre cose, come in un negozio di orologi, se tutti gli orologi si mettessero a battere l'ora in anticipo o in ritardo rispetto agli altri. Una confusione folle, eppure armonica, canti, grida, qualche ultimo topolino pulitore che schizzava fuori, per portar via coraggiosamente quelle orride ceneri. E una voce, con sublime mancanza di riguardo per la situazione, declamava versi poetici, nello studio in fiamme. Finché, tutte le bobine, furono arse, finché tutti i circuiti si appassirono, e i fili, si spezzarono. Il fuoco fece esplodere la casa che precipitò al suolo, spegnendo gli ultimi zampilli e sfumacchi. In cucina, un attimo prima della pioggia di fuoco e di legno, si poteva vedere il forno che preparava la colazione, ad un ritmo psicotico. Decine e decine di uova, sei vassoi di toast, 200 fette di bacon che, abbrustolite dalle fiamme, facevano ripartire la stufa in un sibilo isterico. Il crollo. La soffitta precipitò in cucina e in salotto. Il salotto finì in cantina. La cantina nel sottosuolo. Congelatore, poltrona, pellicole, circuiti, letti, gettati tutti alla rinfusa e ammontichiati come scheletri nelle viscere della terra. Fumo. E silenzio. Un'infinità di fumo. Ad oriente, apparve debolmente l'alba. Tra le rovine, si ergeva ancora un muro solitario. Dentro al muro, pure dopo che il sole era sorto, per splendere sopra quel cumulo di macerie e vapore, era rimasta una voce. Che continuava a ripetere in eterno. Oggi è il 5 agosto 2057. Oggi è.